Salve a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Vincenzo Man e quest'oggi ragazzi Allora, sto cercando di catturare una cavalletta stecco Aspettate Guardate Aspettate un attimo Vieni qui Olè Eccola qui ragazzi Ed è anche bella grande Guardate un po' Eccola qui Che bella Vabbè, adesso la lascio libera Però comunque si ragazzi Veramente bella Si confonde tra le foglie Facendo finta di essere uno stecco Visto Eccola qui Bellissimo Beh, lo ti lascio libero Ecco qui Ok Vai vai Perfetto Grazie a tutti Vincenzo Grazie.